Salute a tutti e benvenuti a informo di questo video. Per Dacius, è stata utilizzata alla graduatoria provisoria del suo welfare del suo studentese posta scuola secundaria del mondo guerrano. Con i spunti su dotatisi e i studenti di contributo, si vuole comprenderli tanto a aspettare ad ognuno chi ne è interessato o vuole consultare su giassù del suo comune. Porta scusi, nuova buona poi rispettisi di volte scusi. S'amministrazione in urnale e parisci che ha lo scadenza dei salasi e non smersi dalla dame, in merisi e i sinquilinoso dei dopuso, natatevi valali per una tassa. Portescusi 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 Sant'Antiovo finisce Babuso e Mamma contro i Sant'Antiovo. Babuso e Mamma, dispiibili del suo asilo e delle scuole elementari della Ruga Virgilio di Sant'Antiovo, fanno incontro i Sant'Antiovo per installare la sala del lago accanto alle scuole. Fanno firmare un documento e entrare a rotto al superante del suo. Sant'Antiovo. Salone 18 di Piazzo sul Mundo. L'amministrazione comunale di Sant'Antiovo in collaborazione con la sala dell'ambiente e l'istituto comprensivo scolastico fa il saluto e le campagne ambientali dell'impiazzo sul Mundo. L'assessore del sudorismo pregonta la sua collaborazione dell'ottosa cittadinanza. Sant'Antiovo. Un grano nuovo del decoro va da questa giunta. Un calendario prolimpiale di tutto il saluto. L'amministrazione comunale è arrivata da fare un calendario nuovo prolimpiale di tutto il saluto. La maniera di tutti i nostri personaggi di ottenere la macchina su una macchina di prima e di passare in mezzo su una propizia del saluto. La seconda di questi assessori, Massimo Bellis, è una cosa importante. e tutto il gusto, se vuoi vivere in Ciasa, portare 0 sugi a 70 progetti di saluto di differenziare contro appena su 70 del caldovasano. Massa Inasa. Sondici dei mesi madami li ha presentato su Ciasa Atlante in i localisi dei suoi centri sociali. su Ciasa, Centro di educazione ambientale e sostenibilità, ha presentato su Ciasa il suo centro sociali e tutto ed ha gestito la cooperativa Sant'Anna, che ha un'ovio iniziativa. L'amministrazione di Ciasa è quella di modificare e informare a tutti i comportamenti e le decisioni visibili da tutti i giorni. e che voglio direnne ripercussioni atti su questi ambienti. Dunque, le attività delle propaganda e delle sensibilizzazioni dei suoi ciasi hanno lasciato massimamente i vostri famigli, ma hanno lasciato le reti di alcune delle scuole, le imprese di arrivare, le associazioni culturali e delle categorie, e le amministrazioni. Allora, sui cassetti dell'alarmini è iniziato un lavoro fatto che i operatori di questa ludoteca imparano l'ufficio della lingua sarda appizzato questa scoperta dei contigenti delle tradizioni locali. E, Gustavo, la sua ultima nota, grazie a tutti e a tutti i giorni. Grazie a tutti i giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.